ciao ragazzi da ignazio siciliano tipo strano è l'uomo del futuro e perché siamo vestiti così perché per natale faremo dei video per i bambini bravo ma ora mi sei piaciuto proprio per tutte le età i bambini per tutte le età i bambini e poi per più grandi e per più piccini faremo la favola di cappuccino il cappuccetto rosso chi è il cappuccetto rosso e che ne so chi è il cappuccetto rosso e che ne so chi è il cappuccetto rosso e che ne so chi è il cappuccetto rosso Godzilla Pinocchio chi erano protagonisti della favola di Pinocchio? intanto tutto era Pinocchio perché sennò la favola non c'era poi c'era il papà che si chiamava? bastoni di legno bastoni di legno sarebbe tipo un nome e cognome detto G? germano Gepetto Gepetto Bianca? Biancaneve Biancaneve? eeeh e sette? i sette nani e sette nani Biancanevi chi è? Chi era una bambina e il papà era un? ragionieri ragionieri banca di legno tutto il periodo di dicembre con le favole nostre con le favole bambini davanti a facebook, instagram, ticchi tocchi ticchi tocchi le favole di natale di Ignazio Siciliano Di Postrano e? l'uomo del futuro che parla con il sole, con le stelle e con la luna vabbè ciao ragazzi sono il mio amico delle ieri ciao ciao bambini ciao 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 Grazie a tutti.